quelli che erano messi in zona rossa. Con la nuova ordinanza firmata dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, si prorroga la zona rossa nelle province di Chiedi Pescara solo per quei comuni che continuano a mostrare una persistenza nei contagi e un'incidenza troppo elevata. Zona rossa che si restringe all'area metropolitana eccezion fatta per qualche centro più distante come ad esempio Caramanico e Lanciano. Continua il costante monitoraggio, sotto particolare osservazione ci sono i comuni della costa terramana più prossimi all'area metropolitana pescarese quali Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi ed i comuni di Atessa e Guardia Grele per i quali nelle prossime 48 ore verrà effettuata una rivalutazione. Un altro elenco di comuni sarà sottoposto a sorveglianza per verificare se nei prossimi giorni continueranno a mostrare trend di crescita nel qual caso si adotteranno specifiche misure rispetto alla fascia arancione loro attribuita. Si applica la didattica a distanza, dalle elementari alle superiori per agevolare la campagna vaccinale che nel frattempo è stata indirizzata tramite le ASL verso il personale scolastico per arrivare il prima possibile a garantire quella copertura vaccinale che consenta una successiva riapertura più serena e sicura. Per le scuole continua ad esserci da parte delle ASL e del Comitato Tecnico Scientifico la conferma dell'incremento dei contagi nella fascia in età scolare come si sta verificando anche a livello nazionale. Per quanto riguarda i risori, il Ministro Speranza tramite il Capo di Gabinetto ha affermato il Presidente Marsilio mi ha scritto una lettera rinnovando l'impegno del Governo ad indennizzare tutte le attività colpite da qualsiasi forma di restrizione sia regionale sia nazionale. Abbiamo così ottenuto anche per iscritto l'impegno del Governo ed attendiamo che nei prossimi giorni finalmente il Consiglio dei Ministri partorisca questo nuovo decreto. La mia richiesta al Governo, oltre che l'auspicio, conclude Marsilio è che ci sia una copertura ampia di tutte le attività colpite dalla chiusura così da poter associare al massimo rigore nella lotta sotto il fronte sanitario anche la massima copertura economica così che questa battaglia si possa vincere senza contrasti e senza aggravare problemi ha sottolineato infine il Presidente della Giunta regionale.